Lo stesso vostro partito che condanna, vede il lapsus freudiano, che candida uno come De Luca in Campania condannato in primo grado e ci venite a dire che non ci sono i soldi, che serve più Europa, sempre le solite balle, sempre le solite balle Presidente Renzi. La verità, e concludo, mi ascolti bene, che sia gli italiani che si impiccano o gli africani che fuggono.